ciao ragazzi ciao a tutti 365 giorni con vali sui orecchini allora vi faccio vedere questi orecchini che sono anche loro piccoli però a me piacciono tanto vedete sono le stelle verde e nero molto bello questi sono uno di quelli che pure mi piacciono tanto belli però non mi ricordo dove li ho presi devo essere sincera sono un po scordella è anche vero che questi qua ce li ho da un po però e con questo è tutto ciao alla prossima